Sono felicissima per me e per tutte le altre persone che dovranno affrontare questa situazione. Sonia Marchesi preferisce non aggiungere altro per evitare una sovraesposizione mediatica, ma non nasconde la sua gioia, per la sentenza pronunciata ieri dalla Corte di Cassazione. Sonia, originaria della Valtrebbia, sui documenti è massimo, ma lo sarà ancora per poco. A settembre, infatti, grazie alla sentenza pronunciata dalla prima sezione della Cassazione, potrà chiedere al Comune di Nascita la rettifica delle generalità e ottenere i documenti dal Comune di Residenza in cui troverà scritto Sonia Marchesi, anche se non si è sottoposta, all'operazione chirurgica per diventare donna. Tribunale di Piacenza e Corte d'Appello di Bologna, in assenza di intervento chirurgico, si erano opposti alla sua richiesta di rettificazione dello Stato civile, aderendo a quella giurisprudenza di merito fino ad oggi prevalente. In questa battaglia, la piacentina è stata sostenuta dagli avvocati Gracis e Bilotta. La Cassazione sostiene che il desiderio di realizzare la coincidenza tra Soma e Psiche è anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere, realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici. Il momento conclusivo, secondo la Cassazione, non può che essere profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali. Sonia Marchesi alcuni anni fa aveva raccontato la sua storia davanti alle telecamere di Penelope e la trasmissione condotta su Tele Libertà da Nicoletta Bracchi.